Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnala un chilometro di code a tratti per lavori tra Versilia e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio in direzione Rosignano, Ina 11 in direzione Firenze e rallentamenti per il ripristino urgente della pavimentazione tra Alto Pascio e Monte Catini. Spostiamoci sulla FIPILI, dove ci sono code tra Empoli ed Empoli Est, in direzione Firenze. Rallentamenti tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno. Per i lavori notturni, stanotte in A1, in orario 22.6, chiuso lo svincolo di Firenze-Scandici in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!